Buongiorno! Settimana scorsa vi avevo detto che vi avrei parlato di due prodotti che io ho iniziato a prendere perché cominciano un po' a girare le prime allergie con questi caldi un po' fuori stagione, un po' anomali e quindi sono subito intervenuta per cercare di rinforzare il mio sistema immunitario e calmare la fase degli starnuti che era partita in modo prepotente. Allora, intanto cos'è un'allergia? L'allergia è una risposta immunitaria anomala ed esagerata del nostro sistema immunitario indotta da contatto, inalazione o esposizione a sostanze estranee, generalmente innocue, denominate allergeni. Generalmente nelle persone normali questi allergeni non danno fastidio ma nelle persone un po' più sensibili scatenano appunto una risposta del nostro sistema immunitario troppo eccessiva. I tessuti coinvolti, quando parliamo di allergie, sono occhi, naso, bronchi ma anche la pelle perché non ci sono solo le allergie da pollini, di piante erbacce e di alberi ma anche allergie agli acri della polvere, agli alimenti, ai farmaci, al pello degli animali e anche ai prodotti chimici. Quello che io sto prendendo attualmente per aiutare il mio corpo è l'estratto al polline della narin e la cerola. Questi sono due prodotti che mi aiutano veramente tanto 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 e che consigliamo alle persone che hanno allergie più svariate come abbiamo appena visto, ma soprattutto appunto alle prime allergie della primavera. Si può partire a prenderle appena ci sono i primi sintomi per poi aumentare un pochino la dose quando siamo nel clou. Allora, l'estratto al polline, che è questo che vedete qui, è uno sciroppo mantenuto in una bottiglia di vetro scuro per preservarne tutte le caratteristiche che contiene germe di grano e miele, che sono ricchissimi delle varie vitamine del gruppo B che sono le vitamine delle energie ma anche ricchi di sali minerali, acido folico che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e ovviamente l'estratto al polline. Il polline è uno degli alimenti naturali più completi e preziosi che ci siano appunto in natura e è un ricostituente potentissimo che va a potenziare le difese del nostro corpo contro le aggressioni esterne e anche contro le aggressioni dello stress. Noi adesso ne parliamo a livello di potenziamento del sistema immunitario contro gli allergeni in realtà questo prodotto noi lo chiamiamo resuscita morti perché è un ricostituente potentissimo direi che tra tutti i ricostituenti che abbiamo questo è il re, questo dopo già 5 giorni che lo state prendendo vi accorgete assolutamente delle differenze perché è veramente fantastico ma per quanto riguarda la parte del ricostituente eventualmente se siete interessati mi chiedete e ve lo dico a parte adesso vi sto spiegando appunto per le allergie. Il prodotto che associamo al polline che quindi va a rinforzare il sistema immunitario, avete visto il foglio? mo gli appunti perché i miei video sono buoni la prima, non ho montaggi, quello che viene viene quindi mi aiuto un pochino con gli appunti perché ci sono tante cose da dire queste sono delle caramelline un po' acidule ma veramente gustose uno tira l'altro, si succhiano o si masticano se siete come me che non siete capaci di andare con calma, io mastico tutte le compresse però va bene uguale, se riuscite a succhiarla meglio qua dentro abbiamo tantissima vitamina C della cerola che tra i frutti conosciuti è quella più ricca di vitamina C in natura la vitamina C naturale presente nella cerola fa sì che una compressa copra e fa bisogno giornaliero di vitamina C per cui questa già basta un al giorno e cosa fa? rinforza e protegge il nostro organismo dagli agenti esterni contribuisce alla formazione dei grobuli rossi quindi previene le emorragie, previene i raffreddamenti protegge il cervello e anche aiuta moltissimo l'assorbimento del ferro quindi questo è un prodotto che va bene anche per chi è carente di ferro combatte gli effetti dannosi del fumo e delle sostanze inquinanti e anche in questo caso degli allergeni e migliora la circolazione e l'ossigenazione del nostro sangue indispensabile perché il nostro sistema immunitario funzioni bene e anche nel caso di allergie all'interno di queste compresse c'è poi anche il ribes nigrum che è un antiossidante molto molto potente in natura considerato fondamentale per le sue proprietà cortisonico simili antinfiammatorio, antiallergico, questo funziona come un antistaminico naturale per cui se soffri di allergie a diversi stadi, diversi livelli e potenze sai che con questi due prodotti naturali della Nari puoi avere sicuramente un sollievo, un validissimo aiuto se ti interessa conoscere qualcosa in più basta che mi chiedi io sono contentissima di risponderti ad ogni modo ti lascio il link dove puoi eventualmente cliccare e andare direttamente nel sito se non sei qua vicino a me resto sempre a disposizione per ogni domanda, dubbio e perplessità e ti saluto e ci vediamo la settimana prossima con un altro prodotto della Swiss Care ciao, un bacio!